Si ha detto oggi perché ognuno sia consapevole delle proprie scelte e dei rischi che corre lui e fa correre alla propria famiglia. Un elemento di criticità che noi registriamo nella città di Napoli, e qui vorrei parlare come mi abitudine, con un linguaggio di chiarezza brutale. Se prosegue così la campagna di vaccinazione a Napoli, noi andiamo verso un nuovo lockdown nel giro di pochi mesi. Ad oggi, per quanto riguarda la Napoli 1 Centro, su 839.000 cittadini residenti e vaccinabili, vi sono 317.000 non adesioni. 317.000 cittadini che hanno deciso di non vaccinarsi. Non è un dato sostenibile. Questo dato significa andare pari pari verso il lockdown dopo settembre. E' bene parlare chiaro, così ognuno si assume le proprie responsabilità. Per quello che riguarda l'Asl Napoli 1, sui cittadini che hanno aderito alla campagna di vaccinazione, sono stati vaccinati il 62% dei cittadini. Manca, diciamo, un 8% per arrivare a una soglia di immunità di gregge. Non è tollerabile. In tutto questo apprendiamo che si sta diffondendo la variante Delta e che la Campania ha già dei focolai di variante Delta. Se consideriamo il fatto che chi ha fatto solo la prima dose non è al riparo dalla variante Delta. E se consideriamo il fatto che mancano all'appello centinaia di migliaia di cittadini che non hanno aderito o che fanno finta di non capire, ci rendiamo conto che si sta preparando una nuova chiusura pesante a Napoli e forse in altri territori della regione. Devo dire che la nuova variante, fra l'altro, è particolarmente aggressiva con la popolazione sotto i 40 anni. Vi do un altro dato. A giugno, 25 giugno del 2020, un anno fa esatto, noi avevamo un positivo. Uno. E poi a fine settembre e ottobre è venuta la fine del mondo. Oggi ne abbiamo 110 di positivi, sia pure la gran parte asintomatici. Ma asintomatici significa che non vanno in ospedale, non hanno patologie gravi, ma contagiano. Contaggiano. Teniamo conto di un dato positivo e di un dato che deve preoccuparci. Il dato positivo ovviamente è che in ogni caso abbiamo un milione e mezzo di cittadini che si sono vaccinati e un quasi 30% che ha fatto la doppia dose. Un dato preoccupante è che a settembre aprono le scuole. E non so se avremo completato la vaccinazione sotto i 18 anni, perché molti ragazzi fanno il calcolo relativo alle ferie di agosto. Se mi vaccino oggi, poi devo fare il richiamo. Insomma, la situazione deve preoccuparci. La posizione della Campania rimane quella di sempre. Se abbiamo rigore e senso di responsabilità, noi avremo la possibilità di aprire tutto per sempre. Se facciamo gli irresponsabili, faremo finta di aprire e di fare un po' di demagogia per un mese, ma poi avremo un problema drammatico in autunno. si è detto oggi perché ognuno sia consapevole delle proprie scelte e dei rischi che corre lui e fa correre alla propria famiglia.